Tutti quanti i giornali, domenica 28 aprile, buongiorno, benvenuti alla zuppa di oggi. Vi dico subito che i giornali di oggi sono noiosissimi, non ci sta nessun divertimento. Guarda, me ne sono letti bene, mi sono dal Manifesto Avvenire, cioè il giornale dei comunisti cattolici, al tempo di Bekis, a Repubblica, a Repubblica titola su Reggeni. Allora, io ho grande rispetto per la vicenda di Reggeni, di un ragazzino torturato, mandato allo sbando da una delinquente professoressa di una università inglese. Insomma, l'interesse politico dell'Italia per questo Reggeni, secondo me, dovrebbe essere pari a zero. Cioè, è un grande dramma familiare, un grande dramma, diciamo, per una famiglia in cui rispetto bisogna nutrire, ma insomma, che sia diventato un caso nazionale mi sembra un po' una cosa fuori dal mondo. Lo dico con rispetto nei confronti di una morte assurda che non ci sarebbe mai dovuta essere. Per quanto riguarda gli altri giornali, ragazzi, non c'è veramente nulla. Oggi il Corriere della Sera si inventa l'ennesima lite scontro all'interno del governo. Allora, lo scontro all'interno del governo deriverebbe dal fatto che i leghisti Buongiorno Sabrina, ciao Pierpaolo, vedo che sei collegato anche tu Insomma, i leghisti vorrebbero la reintroduzione delle province che peraltro ancora esistono. Cioè, le province in realtà non sono state più elette a suffraggio universale ma ci sono esattamente come c'erano prima della riforma del Rio che è stata un po' una pataccata. Allora, io vi chiedo, buongiorno Giordano che vedo collegato ora su Facebook vi chiedo, secondo voi, questo governo che ha visto i leghisti votare quella schifezza del decreto dignità che ha visto i leghisti votare quell'obrobrio del reddito di cittadinanza e che ha visto dall'altra parte i grillini votare tutte le leggi sulla legittima difesa, sull'immigrazione che insomma non sono esattamente nel loro DNA ecco, questo governo che ha fatto compromessi su tutto adesso va a litigare sulle province ma dai, ma chi cavolo ci crede? forse sono i titolisti del Corriere della Sera è ovvio che non sono d'accordo ma è altrettanto ovvio, secondo me, se uno fa girare un po' la testa è che questi signori sono straordinariamente bravi nel trovare il compromesso compromesso un po' più difficile obiettivamente invece sulla questione Siri oggi si è un po' calmata sui giornali del sottosegretario che secondo quella che è un'intercettazione tutta da leggere probabilmente la leggeremo domani di un possibile promessa di 30.000 euro di tangente per cambiare una legge sull'eolico beh, insomma, questo Siri dovrebbe incontrarsi con Conte probabilmente non domani ma dopo domani domani probabilmente usciranno le intercettazioni presunte perché Repubblica dice che ci sono, il Corriere dice che ci sono e la verità, in maniera secondo me molto più verosibile dice che non ci sono cioè ci sono delle cose captate ma non sono esattamente quel virgolettato che hanno citato Repubblica e il Corriere della Sera bene, oggi ci sono due pezzi su Siri il primo sul tempo in cui Celotto, il costituzionalista che parla chiaro, ci spiega come sia molto difficile far sì che si dimetta il sottosegretario perché non è previsto dall'articolo 92 della Costituzione la revoca addirittura dei ministri figuratevi un po' voi dei sottosegretari che neanche sono menzionati e il caso precedente di Sgarbi dimissionato dal governo Berlusconi è poco oggi replicabile perché dice Celotto all'epoca votò l'intero consiglio dei ministri contro Sgarbi che litigava con Urbani in questo caso ci sarebbero dei ministri della Lega che non voterebbero contro le dimissioni di Siri quella sì che potrebbe essere un inizio di crisi di governo è il non detto del tempo ma la cosa più interessante ovviamente è l'intervista a Salvini rilasciata alla stampa mi sembra a Malagutti che dice mi rifiuto di vivere in un paese di 60 milioni di presunti colpevoli il garantismo buongiorno Nadia il garantismo oggi diciamo avrà imparato qualche cosa dalle sue frequentazioni con l'achirico di fino a prova contraria di come si chiama di Salvini sul suo sottosegretario sembra essere superiore quindi mi sembra di capire che l'intervista di Salvini oggi smentisca quelle ipotesi di dimissioni che circolano sui siti ovunque riguardo a Siri che devo dire la verità ho sentito e mi sembra piuttosto scioccato di questa vicenda perché devo dire che il vero tema di questa vicenda sapete qual è il vero tema di questa vicenda è che si associa la mafia alla Lega che è una cosa allucinante ebbene fa Salvini a dire beh insomma ragazzi non esageriamo capisco che l'opposizione faccia il suo mestiere ma se il governo mi devo sentire dire e associare queste robe della Lega beh mi sembra una cosa allucinante come diceva bene Sciascia guardare altrove per guardare meglio dentro è quello che dovremmo fare tutti quanti noi cioè cercare di capire bene cosa sta succedendo nel mondo per capire bene che cosa sta succedendo all'interno di questo governo e nel mondo sta succedendo un gran casino perché l'Italia dice rampini ma non solo rampini alla fine non è che sia oggi all'interno di tutti quanti i grandi dossier c'è una bellissima foto che fa sempre pensare come l'Italia grazie al suo passato sia un grande paese la foto in cui vedi i conti che chiacchierano su un tavolino con in mezzo chiaramente un traduttore ma il senso di questa grande Italia che fa parte del G8 che ancora sede nei tavoli importanti che riesce a parlare con Putin eccetera beh vale fino a un certo punto quando oggi scrive molto bene Romano Prodi che ve l'ho detto tante volte Romano Prodi tanto è stato un pessimo politico tanto è stato un pessimo politico grazie a tutti a Tripoli e però quest'uomo piazzato dall'ONU a Tripoli è oggi abbandonato dalla stessa grandissima potenza unica potenza nucleare che esiste al mondo che sono gli Stati Uniti cioè quando Trump molla il nostro candidato e c'è l'uomo che sta governando Tripoli e sta con il generale Haftar succede un casino perché rimane soltanto sostanzialmente l'ONU che non conta nulla e l'Italia con Tripoli e tutti gli altri a partire da Trump e i francesi stanno con il generale Haftar che sta cercando di conquistare la Libia non so se Trump faccia bene ma quello che dice diciamo Prodi è molto comprensibile oggi sul messaggero bellissimo il pezzo oggi di Bekis che si è andato a leggere le 108 pagine del documento sulle infrastrutture allegato al DEF scritto e firmato soltanto da Conte la definizione di Bekis è una definizione che noi che abbiamo una certa età capiamo perfettamente una supercazzola dice tanti termini inglesi 5G Internet of Things blockchain ma non c'è nessun accenno alla per esempio alla TAV infine vi segnalo un pezzo molto bello di Giuseppe Marino oggi sul giornale perché l'apertura del giornale è uno scuppettino del giornale e cioè il fatto che molti dei parlamentari del Movimento 5 Stelle e ci sarebbero anche Di Maio non stanno pagando i 300 euro che devono pagare ogni mese alla piattaforma Rousseau gestita da Davide Caseleggio cioè da un'associazione privata non la stanno pagando per un semplice motivo perché non riescono a capire che servizi gli stia fornendo e quindi la grande polemica dei grillini che non vogliono pagare il loro partito che sostanzialmente è una piattaforma e cioè quella Rousseau direi che l'ultima notizia riguarda l'Alitalia per il sole 24 ore è sfumata l'ipotesi dell'accordo con Toto un altro concessionario autostradale mentre invece per Repubblica Di Maio sta allungando i tempi che sarebbero scaduti il 30 di aprile per capire la fine che farà la compagnia ex compagnia di bandiera ma che le trattative sono ancora in corso un po' con tutti buona domenica anche a te Maria Rosaria Maria Teresa grazie per l'equilibrio Valentina ce l'ha con Di Maio che dice che dovrebbe tornare a vendere panini noi torneremo sicuramente domani sera ciao Pierpaolo domani sera alle 21.30 torna Quarta Repubblica mi spiace adesso su Instagram che la connessione è saltata torniamo domani sera con Quarta Repubblica alle 21.30 su Rete4 e martedì alle 23.30 come sempre in seconda serata su Canale 5 con Matrix bene un grande buon domenica a tutti quanti voi ciao ciao